Tempo incerto questo pomeriggio qui ad Appiano Gentile, così non è stato questa mattina quando qualche sparuto raggio di sole ha accompagnato la partenza della squadra alla volta di Bari, dove questa sera i nerazzurri disputeranno con Milan e Juventus quello che ormai è diventato un appuntamento fisso dell'estate calcistica e il primo dopo gli impegni di Pinzolo, ovvero il triangolare del trofeo team. Il charter è dunque decollato questa mattina dall'aeroporto di Milano-Malpensa alle 10.30 circa, con la squadra anche Wesley Sneijder che si è aggregato ai compagni dopo una sessione di allenamento mattutino. I nerazzurri riprenderanno poi ad allenarsi sempre sui campi del centro sportivo Angelo Moratti già nella mattinata di domani. Fitto il programma dei giocatori per la prossima settimana, su cui spiccano due amichevoli. Nella serata di martedì 24 luglio, dopo una sessione di allenamento mattutino, l'Inter incontrerà in amichevole il Como allo stadio Sinigaglia. Venerdì 27 invece i nerazzurri voleranno a Glasgow, dove sabato incontreranno sempre in amichevoli il Celtic. Si prospettano dunque dei giorni di intenso lavoro per i nerazzurri di Andrea Stramaccioni, in vista poi di quello che è l'appuntamento del 2 agosto con l'Europa League. Per questo e tutte le altre notizie sul mondo nerazzurro vi rimando al canale YouTube e al canale su piattaforma Sky 232.